Basta Manuela, con questa colazione triste! Nel corso di un'ispezione presso l'Officina di Proprietà dell'Uomo, dove questi era stato autorizzato a svolgere l'attività di carrozziere, hanno effettuato approfonditi controlli su alcune vetture in fase di lavorazione. Tra queste vi era una Chrysler parzialmente smontata, il cui numero di targa non corrispondeva con il numero del telaio. Sul veicolo erano in corso operazioni di modifica sostanziali. Infatti risultavano saldate le portiere posteriori e sostituiti i finestrini posteriori con lamiere. Anche l'unotto posteriore era stato sostituito con una lamiera e il colore dell'autovettura appariva modificato. Inoltre non erano presenti il documento di circolazione ed il targhettino identificativo della casa costruttrice. In un vano deposito creato all'interno di un soppalco della carrozzeria, tra l'altro, sono stati rinvenuti numerosi pezzi in ottime condizioni, riconducibili a diversi veicoli di svariate marche, privati dei relativi identi card ed illecita provenienza. Così gli agenti hanno provveduto a sottoporre a sequestro penale l'auto e i pezzi. L'uomo era già stato tratto in arresto nello scorso mese di giugno dai poliziotti del commissariato meteliano per il reato di ricettazione.